Con questo tutorial vediamo come costruire in maniera dinamica un arco di circonferenza e poi ne andiamo a calcolare la sua misura. La prima cosa che vado a fare è costruire in maniera dinamica la circonferenza di base. Vado nella sezione della barra di inserimento e scrivo ad esempio R uguale a 4. Poi clicco su questo valore, in questo modo mi appare lo slider nella sezione grafici. Questo valore rappresenterà il raggio della circonferenza. Ora vado su proprietà e mi devo garantire che questo valore deve essere un valore positivo e allora come valore minimo metto ad esempio 1. Come valore massimo posso lasciare 5 e premo ok. Vado ora a disegnare la circonferenza. Utilizzo il comando centro e raggio. Come centro prendo il punto 00 e come raggio scriverò R e premo ok. In questo modo al variare di R varierà la mia circonferenza. Vado ora sulla circonferenza e nascondo l'etichetta e poi la metto in grigetto. Inizio ora la costruzione per andare a definire l'arco di circonferenza. Prendo il comando intersezione ed interseco la circonferenza con l'asse delle X. In questo modo restano definiti due punti B e C. Ora prendo il segmento che unisce B con C. Vorrei adesso prendere un punto che si trova tra B e C. Per far questo ho bisogno di un altro slider e scrivo nella barra di inserimento K uguale a 2. Clicco sul numero, in questa maniera mi appare lo slider e questo valore sarà l'ascissa del punto che dovrà essere vincolato a stare sempre tra B e C. Per far questo devo mettere delle condizioni su K. tasto destro, proprietà. Metterò come valore minimo meno R, come valore massimo R e poi chiudo. Nella barra di inserimento ora vado a definire il punto K, 0 e premo OK. Questo punto D si muoverà al variare di K. Osserviamo che D risulterà essere compreso tra C e B. Al variare di R, D risulterà essere sempre compreso tra gli estremi B e C. Considero ora la retta perpendicolare al segmento BC passante per D e vado a intersecare questa retta con la circonferenza. In questo modo restano definiti due punti E ed F. Questi punti risulteranno essere gli estremi dell'arco di circonferenza. Prendo ora il comando arco di circonferenza, clicco sul centro e poi sugli estremi E ed F. Ed ecco il nostro arco. Ora vado su questa retta e metto la retta in grigetto perché è una linea di costruzione. Ricontrollo sempre che se vario K varierà l'arco di circonferenza. Vado ora a cliccare su distanza o lunghezza e clicco sull'arco. E GeoGebra mi dice che questo arco ha una lunghezza di 8,24. Se lo volessi mettere in evidenza ci clicco sopra e aumento lo spessore dell'arco. Come ultima cosa voglio andare a ricavare manualmente la lunghezza dell'arco. Andiamo a scrivere la formula della lunghezza dell'arco. E allora prendo una casella di testo e scrivo la formula della lunghezza dell'arco. Ho utilizzato del codice LaTeX per andare a scrivere che la lunghezza è uguale a alfa per la circonferenza diviso 360 gradi e premo ok. Ora tasto destro, proprietà, vado su testo e lo metto in grande. Allora ho bisogno di individuare l'angolo alfa. E allora prendo il segmento che unisce F con A e poi A con E. Seleziono poi il comando angolo e clicco E, A, F. E l'angolo relativo a questo arco di circonferenza è questo 115,1. Se vario K l'angolo varierà. Ora ho tutti gli elementi per andare a scrivere questa formula. E allora vado nella barra di inserimento, clicco su alfa, poi per C, ossia la lunghezza della circonferenza e quindi scrivo 2 per P greco, che si indica con P, per il raggio, dove il raggio è pari ad R. Tutto quanto diviso 360 gradi e premo ok. E ottengo questo valore B uguale a 8 che corrisponde proprio alla lunghezza dell'arco in questione. Duplico ora questo testo facendo CTRL-C, CTRL-V e trascino e do una copia di questo testo. Doppio clic, qui a fianco ad alfa, vado a utilizzare l'oggetto dinamico alfa e cancello la scritta alfa. Al posto di C scriverò 2, P greco e poi metto il raggio. Il raggio è dinamico e scrivo R, tutto quanto uguale alla lunghezza della circonferenza che era uguale a B. E premo ok. Al variare di K l'angolo varierà e varierà la lunghezza dell'arco. Se vario R varierà anche il raggio della circonferenza. Ora come ultima cosa nascondo gli assi, nascondo la griglia, l'arco lo metto in colore rosso, nascondo poi l'etichetta dei due raggi H e D, vado poi sull'arco, tolgo l'etichetta dell'arco ed in questo modo ho terminato la mia costruzione.